Si chiude qui la striscia positiva dopo il pari con Legnano, le due vittorie con la Castellanzese e Crema, Breno che si porta a casa a quest'oggi tre punti. Diciamo che è stata una partita molto combattuta sul terreno di gioco, abbiamo avuto al primo tempo qualche possibilità di andare in vantaggio, non è successo. Mi hanno preso questo gol qua, l'unico tiro che hanno fatto sui specchi della porta, peccato perché è una partita che c'è stato il pareggio anche perché c'è un rigore su di me nettissimo. Va bene, la prendiamo così, il calcio ha fatto anche gli episodi, oggi l'episodio sicuramente non ci ha dato ragione, però noi continuiamo con il nostro campionato, già domenica c'è una possibilità di mettere a posto la classifica e noi andiamo a originate per vincere la partita. Rivediamo il calcio di rigore, a 75esimo di gara, batti la punizione, ribatte la barriera, si alza la palla a Campanile, poi c'è l'entrata di Melchiori, insomma sei abbattuto nell'area del Breno, direttore della gara che era lì a 10 metri. Diciamo che io sono arrivato prima sulla palla, ho preso questo calcio qua, non capisco che cosa il direttore ha visto, però, ripeto, è l'episodio, non possiamo prendere come alibi, l'unica cosa è lavorare e cercare di andare a vincere domenica. E poteva essere il sesto calcio di rigore trasformato, Pinto? Sì, meglio vivere quello che succede, non è successo, dobbiamo pensare, come ha detto, alzare la testa subito, già da oggi stesso, già pensare alla prossima partita. La prossima è infatti una partita secca, da dentro da fuori, contro l'Abrianza o il Ginatese. Sì, loro sono una squadra che nelle ultime partite hanno fatto molto bene, anche oggi mi sa che hanno vinto, noi comunque dobbiamo andare lì, sappiamo della nostra forza, sappiamo che squadra siamo, come abbiamo sempre fatto, non è una sconfitta di oggi che ci impedirà di andare lì e provare a vincere le partite. Nella seconda frazione di gioco è calata l'intensità, non come il primo tempo, avevate approcciato bene con l'occasione di Cappelli a secondo minuto, insomma lì andava fatto il gol, diciamola tutta. Sì, diciamo che è una grande occasione, ripeto, sono episodi, abbiamo trovato dopo un minuto, poi li abbiamo trovati in vantaggio, abbiamo perso una partita che oggi stiamo parlando, che secondo me è una partita da tutto sommato, 0-0, 1-1, ci stava tutto, quindi, ripeto, come Cappelli in altre partite ci ha fatto vincere, oggi è sbagliato ma fa parte del calcio, l'importante è che la squadra c'è, la squadra comunque combatte, è viva e quella è la cosa principale. Sì, era una gara complicata, lo sapevamo, loro si difendono molto bene, abbiamo incontrato delle difficoltà nel primo tempo perché loro non ci concedevano gli spazi, abbiamo fatto fatica a sviluppare, a trovare gli spazi tra le linee e nello stesso tempo non riuscivamo a trovare bene la profondità, nel secondo tempo abbiamo preso le misure, sono molto contento naturalmente anche del primo perché nonostante non l'avessimo sviluppato bene, comunque la fase difensiva devo dire che è stata fatta perfettamente, noi siamo venuti qua per difendersi meglio degli altri perché sapevamo di incontrare una squadra che si difende molto bene e che si difendeva meglio in questa partita portava a casa il risultato anche con un bisogno fortunoso, naturalmente era una partita dove il risultato più giusto era lo 0-0, però abbiamo perso meritatamente l'andata e magari oggi abbiamo vinto anche meritatamente, il calcio è questo, dai toglie, però insomma il terzo risultato è utile consecutivo, sette punti in tre partite, adesso siamo carichi perché vogliamo fare un grande finale di stagione. L'episodio uno dei tanti di quest'oggi è quello incriminato al 57esimo di gara, quel fuorigioco, quel gol di testa, aveva battuto Remondini Triglia. Sì, è una delle poche occasioni della partita perché tra noi e loro ci sono state pochissime occasioni, sapevamo che veniva a fare una partita di questo genere, di sfruttare qualche piccola situazione, l'abbiamo fatto, su quell'episodio lì sinceramente dalla panchina non ho visto se l'arbitro ha fiscato il fuorigioco oppure il fallo, quindi però devo dire che nel secondo tempo siamo venuti fuori alla grande, li abbiamo messi in grande difficoltà, forse magari anche loro erano un po' affaticati dalla partita di domenica, noi abbiamo giocato il sabato e magari avevamo qualche energia in più e devo dire che nel secondo tempo questa cosa qua credo si sia vista. E Cristini al settantesimo ha detto, ragazzi qua segno io questo tiro da fuori, generalmente è deviato da Di Cesare, battuto Remondini, insomma poi non è entrato in prossimità del 7, quindi ha deciso, tiro io direttamente in porta. Ma guarda, il calcio è lo sport più bello del mondo perché all'andata abbiamo perso su un traversone sbagliato, credo di Berben, adesso non mi ricordo, da tre quarti campo, quindi un gol fortunoso e oggi noi abbiamo fatto gollo con un tiro da fuori aria deviato che ha scavacato il portiere. È incredibile perché veramente il calcio ti dà e ti toglie come ho detto prima, però io credo che non c'è una sfortuna, una fortuna, gli episodi fortunosi te li devi andare a prendere e con l'atteggiamento che abbiamo avuto noi in questa partita siamo andati a prenderli. Come abbiamo vinto alla Villa Valle al 92esimo perché ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo perso anche due partite noi al 90esimo in questo giorno di torno e non è sfortuna, come non era fortuna quando oggi o non era fortuna a Villa Valle dove abbiamo segnato la fine. quindi gli episodi te li devi andare a prendere e con l'atteggiamento che abbiamo avuto oggi siamo andati a prenderci lì. E c'era da prendere il calcio di rigore le nostre riprese, Tacchinardi c'erano tutte, c'è stata l'uscita di Merciori scomposta su Ferreira, Pinto, direttore della gara che era lì a 10-12 metri, insomma non l'ha visto, ci può stare però dalle nostre riprese il calcio di rigore è nettissimo. Sì, secondo me c'era anche per noi a favore nel primo tempo, subito all'inizio su Pelamatti quindi secondo me gli due episodi si annullano però mi ricordo all'andata il rigore che non ci hanno dato a noi che era una roba incredibile però dobbiamo accettare l'errore dell'arbitro perché poi dopo alla fine tutto si pareggia quindi gli episodi sfortunati e fortunati in funzione delle decisioni degli arbitri credo che lasciano un po' il tempo che trovano perché poi dopo alla fine dell'anno come detto prima si pareggia tutto. Dopo questo turno infrasettimanale domenica prossima testa la capolista. Assolutamente sì, veniamo con un grande morale, grande autostima, grande fiducia, vogliamo dare delle grandi soddisfazioni ai nostri tifosi al Tassara, affrontiamo la prima della classe però sono convinto che faremo una grande prestazione al di là del risultato.